ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi siamo qui sul grafico di cardano infatti merita un approfondimento l'incredibile salita che sta avendo questa cripto valuta che al momento è arrivata a posizionarsi al quarto posto per capitalizzazione di mercato scavalcando persino il dogecoin che era stato spinto da ilon musk ma vediamo che cosa è successo e cerchiamo di capire quali sono le prospettive di prezzo analizzando il grafico di cardano rispetto al dollaro come potete vedere qui siamo su un grafico weekly quindi abbiamo il grafico settimanale ogni candela vale una settimana quello che possiamo vedere ragazzi è che da circa maggio dell'anno scorso a a dicembre fine dicembre dell'anno scorso quindi per buona parte dell'anno scorso il grafico si è inserito all'interno di questo canale qui che vi ho evidenziato il primo canale ecco qui ve lo indico con uno questo qui è il primo canale in cui si è andato a inserire il grafico dopodiché ragazzi c'è stato un incremento del prezzo ecco parti prendiamo proprio riferimento dal canale all'altro canale c'è stato un incremento del prezzo del quasi 400 per cento e lo segniamo qui 400 per cento quindi ragazzi abbiamo visto una salita del prezzo del 400 per cento dopodiché ragazzi vediamo che nel prima nella prima parte di quest'anno si è andato a praticamente ci sia il grafico di cardano si è andato a inserire all'interno di quest'altro canale che è un canale che viaggiava dagli 88 centesimi di dollaro al dollaro e 53 54 centesimi per poi riesplodere che cosa ho fatto ragazzi allora potete vedere tranquillamente che io ho indicato dei valori ma come ho fatto a indicare questi valori allora innanzitutto volevo segnarvi questo questo è il nostro secondo canale importante che ha diciamo testato più volte il prezzo di cardano e all'interno del quale è rimbalzato più volte per poi riesplodere verso la salita se andiamo ragazzi a considerare quello che è stato questo trend di salita dopo aver consolidato nel primo canale rispetto al secondo canale ho praticamente non ho fatto altro ragazzi che queste queste candele qui che vedete in blu evidenziate adesso non sono altro che la riproposizione di questo trend in salita rispetto al primo canale quindi la proiezione ci indica che il grafico dovrebbe a questo punto da da qui iniziare lentamente a salire e ovviamente siamo sempre su un grafico esponenziale ecco qui ragazzi dovrebbe iniziare a risalire seguendo lo stesso andamento fino a un target di 7 dollari e 58 chiaramente potrebbe non fare questo tipo di salita rapida come è stato fatto all'interno del primo della prima bull run dal primo canale al secondo canale ci potrebbe volere più tempo ragion per cui ragazzi è logico aspettarsi che il grafico vada potrebbe anche fare questo tipo di potrebbe anche fare questo tipo di andamento per poi comunque arrivare a toccare questo nuovo massimo sicuramente lo potremmo scoprire soltanto analizzando i grafici nel prossimo periodo quindi quello che dobbiamo capire quando andiamo a analizzare i grafici è vedere all'interno di quali livelli i prezzi si vanno a stabilizzare e poi quello l'altra cosa da capire ragazzi è vedere esattamente quanto c'è di guadagno da un canale all'altro è probabilmente per comprendere attentamente e nel dettaglio questi riferimenti ci servirà del tempo però quello che io volevo sottolineare con questo video è proprio il discorso del che quando un canale viene rotto al rialzo difficilmente poi ci si ritorna dentro al massimo il prezzo può essere riusato come supporto per poi andare a testare nuovi livelli quindi ragazzi questo è quanto per il video di oggi sicuramente monitoreremo l'andamento di cardano nelle prossime nei prossimi giorni come potete vedere oggi siamo a 2 dollari e 39 quindi c'è già stata una salita nell'ultima settimana molto molto importante ma io non credo che il rally sia finito qui però staremo a vedere nei prossimi giorni vi terrò sicuramente informati io vi ringrazio per la visione ragazzi e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti